L'uomo è un mistero, un mistero che bisogna risolvere, e se trascorrerai tutta la vita cercando di risolverlo, non dire che hai perso tempo. Io studio questo mistero perché voglio essere un uomo. Buonasera, questo è Sant'Agostino. Uno dei più grandi investigatori, indagatori dell'animo umano, uno dei grandi filosofi, che si è chiesto cos'è l'uomo. Ed è arrivato alla conclusione, che poi non è una conclusione, che l'uomo è un mistero. E forse ci metterai tutta la vita a cercare di risolverlo, ma non dire che hai perso tempo. E poi dice una cosa ancora più importante, io studio il mistero dell'uomo perché voglio essere un uomo. Questa sera cercheremo di rispondere a questa domanda che inquieta la filosofia da millenni. Che cosa è l'uomo, o la donna naturalmente, che cosa è umano? E la domanda, articolandola meglio, potrebbe essere questa. C'è qualche cosa che tutti noi, sette miliardi abitanti di questo pianeta, abbiamo in comune, al di là delle differenze? C'è una radice antropologica e pedagogica dell'umano, della famiglia umana? Che cosa ci permette di riconoscere nell'altro o nell'altra un essere umano, a prescindere da tutte le altre differenze? Capito che è una domanda molto difficile, è una domanda che, come dicevo, la filosofia si è posta per millenni e le risposte, molto spesso, quasi sempre, sono state risposte ad excludendum, cioè per differenza, per dire che cos'era l'uomo bisognava trovare qualcuno che non fosse uomo, la donna per esempio. Per molto tempo la donna è stata considerata, addirittura non umana, Aristotele, la mette al di sotto degli schiavi, schiavi, meno importante ancora degli schiavi. Non umana, la donna oggetto, di cui parlavano le femministe negli anni settanta, oppure un po' meno umana, un uomo riuscito male. La donna era considerata come un essere umano di seconda categoria e quindi uomo vuole dire maschio, donna è qualche cosa di meno. oppure un altro essere che viene considerato per differenza, il non umano, come surumano ha sempre bisogno di caratterizzarsi per esclusione il selvaggio. Faccio due esempi storici. Il colloquio teologico di Valladolid. A Valladolid nel 1500 si incontrano due grandi esponenti della Chiesa Cattolica, Gines de Sepulveda e Bartolomea de las Casas. Bartolomea de las Casas è stato impegnato per anni a denunciare le violenze dei conquistadores e anche le connivenze della Chiesa nella conquista dell'America Latina. Si incontrano perché devono discutere un tema importantissimo, se gli indios abbiano o no un'anima, che se non hanno un'anima sono come gli animali, sono come degli oggetti e quindi possono essere venduti, comprati, uccisi, feriti, mutilati. Chiaramente Bartolomea de las Casas sostiene il fatto che gli indios abbiano un'anima e quindi sono umani, Gines de Sepulveda dice no. E se avete visto il film Mission, c'è quella bellissima scena nella quale il prete, non De Niro, l'altro, prende un ragazzino davanti ai conquistadores spagnoli, portoghesi, un ragazzino indio, lo mette sulla cassa e gli fa cantare, il ragazzino canta in maniera straordinaria e il capo dei conquistadores dice vabbè ma anche gli uccelli cantano, cosa avresti dimostrato? Se non voglio attribuire umanità a questo bambino non lo attribuisco, puoi farlo cantare, puoi farlo saltare, puoi farlo parlare, possiamo addestrare anche i pappagalli a parlare. E quindi nel Cinquecento tutto un continente di esseri che noi non esitiamo a definire umani venivano considerati non umani in quanto non in possesso di anima. Venendo ancora più vicino a noi, nella Francia dell'Illuminismo, nella Francia dei Lumi, nel 1800, pochi anni prima del cambiamento di secolo, viene trovato nei boschi un bambino di 12 anni, un ragazzino, che vaga nudo nei boschi perché è stato abbandonato dai genitori quando aveva due anni, hanno tentato anche di ucciderlo, l'hanno soltanto ferito e lui dai 2 ai 12 anni ha passato il suo tempo perso nei boschi. Se avete visto il film Il ragazzo selvaggio, dei François Truffaut, il film è un racconto fedele di questa vicenda. E anche lì il sapere scientifico, stavolta, non la teologia, non la filosofia, il sapere scientifico si domanda se questo bambino è un essere umano oppure no. E il padre della psichiatria francese, Philippe Pinel, dice che questo bambino è meno di un animale. Sì certo, uno dice si guarda allo specchio e si riconosce, ma anche le scimmie sono capaci. Sa sentire dei rumori e voltarsi, ma anche i cavalli, anche i topi. Quindi ha questo bambino, che non è un bambino che viene dall'esterno, gli indios venivano dall'esterno dell'Europa, anzi venivano, loro erano tranquilli a casa loro, siamo andati a trovarli. Questo bambino è un bambino francese, è un ragazzino che nasce dentro la Francia illuminata, illuminista, però viene considerato non umano. Poi arriverà un altro personaggio, Itardi, un educatore, che dirà datolo a me, perché lui è un bambino, è un essere umano, soltanto ha avuto la tragedia di vivere come un selvaggio, e dirà una frase molto importante, l'uomo è ciò che noi ne facciamo. E insegnerà tante cose a questo bambino. Ma intanto c'è una parte della psichiatria, quindi una scienza, non una posizione filosofica e teologica, che attribuisce mancanza di umanità a questi bambini, a questi selvaggi, a queste persone che non hanno vissuto la loro infanzia e la loro adolescenza dentro la città, o dentro il contesto umano. Quindi la donna, il selvaggio, pensate al nero, pensate all'orientale, tutte le categorie umane, che di volta in volta, perché diverse quanto a etnia, o a comportamento, o a cultura, o a religione vengono considerati non umani, il bambino e il vecchio. Il bambino per tanto tempo è stato considerato come non ancora umano, come preumano, perché l'umano era l'adulto, l'adulto non sufficientemente adulto, però da essere vecchio, perché anche il vecchio per molto tempo è stato considerato ai margini. Pensate all'enigma della Sfinge, quando Edipo, io lo pronuncio sempre Edipo, non Edipo, perché teoricamente andrebbe pronunciato così, quando la Sfinge fa il famoso indovinello, qual è l'animale che la mattina cammina con tre gambe, quattro gambe, scusate, al pomeriggio con due, alla sera con tre. Edipo dice l'uomo, però l'uomo in realtà dietro questo giochino c'è l'idea che l'uomo vero cammina con due gambe, la mattina cammina con quattro, perché non è ancora uomo e quindi gattona e non è ancora un essere umano, per riconoscere dignità di persona al bambino, occorrerà aspettare, non dico la Montessori, ma comunque la pedagogia almeno dal 600 in poi, e il vecchio cammina con tre gambe, perché ha il bastone e quindi è un po' meno umano. Quindi l'uomo deve essere l'uomo occidentale, europeo, di pelle bianca, maschio, dai 30 ai 50 anni. Chi si discosta da questa definizione? Non è umano, la donna non è umana, l'africano, l'indiano, l'indoamericano non sono umani, il selvaggio non è umano, il bambino, l'anziano. E poi il mostro, il mostro, non pensate ai mostri della mitologia, pensate a quelli che noi oggi chiamiamo semplicemente disabili, persone disabili, per secoli sono stati considerati mostruosi, non umani, inumani, non andiamo troppo lontano nel tempo, pensate alla grande prova generale della Shoah, che è stata l'azione T4, cioè lo sterminio delle persone cosiddette disabili, persone, molte di quali erano semplicemente persone appartenenti al gruppo ebraico, ma alcuni erano semplicemente dei bambini, dei ragazzini con qualche problema di comportamento, con qualche lieve disabilità fisico-psicologica. Ecco, nella Germania nazista queste persone sono considerate vite non degne di essere vissute, è stata una grande propaganda radicale, capillare, per dire che queste persone è meglio per loro se muoiono, perché non sono, sono dei sottouomini, e poi la definizione di sottouomini andrà applicata agli omosessuali, ai testi di nuove di Geova, agli ebrei, ai Roma, ai Sinti, a tutti i gruppi umani esterminati. Però è interessante che il nazismo parta dallo sterminio delle persone disabili, quelli che noi oggi chiamiamo persone disabili. E a questo proposito c'è una frase impressionante che viene pronunciata da un medico, un medico nazista, al processo di Norimberga. A Norimberga vengono fatti dei processi, viene fatto un processo specifico ai medici, proprio una sessione esclusiva del Tribunale, perché riconosce nel personale sanitario i primi perpetratori dello sterminio, e viene interrogato un medico, Herman Van Müller, che è stato quello che ne ha ammazzati di più, uccideva questi bambini. E il pubblico ministero gli dice, ma lei ammette di aver ucciso centinaia di bambini disabili? Sì, lo ammetto. Ma è pentito? Assolutamente no. Ma lei è un medico, come fa a dire queste cose? Lei ha fatto il giuramento di Ippocrate. Come fa un medico a non essere pentito di aver ucciso migliaia di bambini? E la risposta è sconcertante, ma molto, molto illuminante, questo è il modo di intendere l'umano sempre per sottrazione. Il medico risponde, è lei che non capisce, perché guardi, io sono un medico, il mio malattro, il mio paziente era il terzo Reich, il bambino disabile era il tumore, se io le tolgo un tumore e lo butto via, faccio una cosa buona, a lei non interessa dove io butto il tumore, queste persone erano la malattia, quindi non soltanto non erano umani, erano la malattia, erano il tumore che io ho estirpato. Pensate a quanto per definire l'umano abbiamo bisogno di ammazzare qualcuno, abbiamo avuto bisogno di ammazzare qualcuno, di fare violenza a qualcuno, abbiamo avuto bisogno di tracciare un recinto dentro il quale ci siamo noi, di volta in volta, sono entrate le donne, poi sono entrati i neri, poi sono usciti i neri, poi sono rientrati gli omosessuali, poi sono ancora usciti, ma sempre un recinto al di fuori del quale porre qualcun altro, cioè non dare una definizione positiva dell'umano, ma una definizione negativa. Prima ho usato la parola mostri, la parola mostri per secoli è stata usata per definire le persone con disabilità più o meno gravi e c'è un episodio molto interessante, terribile da raccontare, però molto interessante, che riguardava il fatto di cosa fare quando nasceva un bambino con gravi deformità, magari un bambino che aveva anche poche ore di vita, andava battezzato oppure no, era umano oppure no, qual era il limite al di qua del quale questa persona non era umana? Ricordo che battezzare un animale era un peccato gravissimo, soltanto l'uomo ha l'anima, e quindi non si poteva battezzare un animale o addirittura un oggetto. Allora c'era la formula dubitativa, per cui il sacerdote o anche l'ostetica, a l'acqua venne detta per battezzare, diceva se sei umano io ti battezzo, così si era messa il cuore in pace, lo saprà Dio. Però a un certo punto in una zona della Francia, ai confini con la Val d'Aosta, nasce, praticamente nascono quelle che noi potremmo interpretare come due gemelli siamesi, oppure se volete un bambino con due teste, che chiaramente ha pochi minuti di vita, e si crea un grosso dibattito, si capisce che è un essere umano in qualche modo, perché ha tutte le caratteristiche esteriore dell'essere umano, ma quanti sono? Uno o due? Quante anime devo salvare con il battesimo? Devo battezzare un bambino solo, devo battezzarne due o non devo battezzarne nessuno? Capite che queste sono cose terribili che oggi ci fanno impressione, però danno proprio l'idea che comunque qualcuno è al di fuori del cerchio dell'umano. Allora proviamo invece oggi a dare una risposta inclusiva, cioè proviamo a capire quale definizione di umano, quali definizioni di umano, ci permettono di includere il più possibile, fino ad arrivare ai 7 miliardi, ma i 7 miliardi che sono vivi oggi, tutti quelli che sono vissuti dall'antichità ad oggi, e tutti quelli che arriveranno su questa terra dopo di noi, e che stanno arrivando in questo momento, perché stavano nascendo dei bambini. Come possiamo definire l'umano nella maniera più allargata possibile? Io comincio a leggervi un breve brano da Platone, dal Protagora di Platone, intendiamoci Platone, non è che fosse tenero anche lui rispetto allo straniero, però nel Protagora più che dare una definizione di umano racconta un episodio molto interessante, che ci aiuta secondo me molto. La storia è questa, Zeus ha creato tutte le specie viventi e le ha create come se fossero soltanto sbozzate, come se fossero delle cose di creta appena bozzate. Allora vuole dare ad ogni specie vivente la sua caratteristica positiva, il suo dono, vuole che ogni animale abbia qualcosa che lo distingua dagli altri. Chiama Epimeteo, Epimeteo e suo fratello Prometeo, Prometeo rimane in disparte, Epimeteo, Zeus dice a Epimeteo, adesso tu devi dare ad ogni specie la sua caratteristica. Allora dice Platone, sotto i piedi di alcuni, dette zoccoli, ad altre unghie e pelli dure, prive di sangue, ad alcuni procurava un tipo di alimento, ad altri un altro tipo, ad alcuni erba, ad altri frutti degli alberi, ad altri radici, ad alcuni poi detto come cibo la carne di altri animali, ma a questi concesse scarsa prolificità, mentre a quelli che ne erano preda abbondante prolificità, quindi cacciatori hanno pochi figli, le preda ne hanno tanti in modo che si mantenesse l'equilibrio. Solo che Epimeteo, al quale mancava compiuta sapienza e Prometeo, che vede dopo il fratello, aveva consumato, senza accorgerne, tutte le facoltà naturali. Gli rimaneva ancora ad adottare il genere umano, cioè ha dato tutto al cane, al gatto alla tigre, ha dato gli artigli alla tigre, il carapace alla tartaruga, le zanne all'elefante, è arrivato all'essere umano, non era più di niente. L'essere umano rimane senza nessun dono, cosa che in effetti è vero. E rimaneva ancora ad adottare il genere umano e non sapeva davvero cosa fare per trassi di imbarazzo. Proprio mentre si trovava in tale imbarazzo sopraggiunse Prometeo a controllare la distribuzione. Fratello un po' più saggio, dice vediamo cosa ha combinato mio fratello. Vide che tutti gli altri esseri viventi armoniosamente posseggono di tutto e che invece, pensate che bella definizione di uomo questa, è che invece l'uomo, l'ho perso, è nudo, scalzo, privo di giaciglio e di armi. Questa è la definizione di uomo che dà Platone, nudo, scalzo, privo di giaciglio e di armi, sciagurato, più disgraziato di tutti gli animali, non ha niente l'uomo, è totalmente nudo. Prometeo allora, scusate mi sono perso, Prometeo allora sì, trovandosi appunto in grande imbarazzo per la salvezza dell'uomo, rubò a Efesto e ad Atene sapere tecnico e tecnoslogia insieme con il fuoco. Poi Prometeo verrà punito durissimamente da Zeus per avere rubato il fuoco agli dèi, averlo dato all'uomo, verrà incatenato su una rupe con un'aquila che gli divorerà il fegato e il fegato continuerà a riformarsi e l'aquila continuerà a mangiargli, è una punizione terribile, poi arriverà a Heracle a liberarlo. Però pensate che bella questa definizione di umano che dà Platone? L'umano come l'animale più indifeso in assoluto di tutte le altre specie, l'umano come l'animale che non ha corazze, che non ha artigli, che non ha zanne, che non può volare via per scappare, che non è lento nella corsa, lento nel nuoto, totalmente nudo, scalzo, senza giaciglio e senza armi. Però ha la ragione. Allora, vediamo quali sono le caratteristiche di questo umano. La prima è la fragilità, le ginestre, la ginestra dei lopardi, la consapevolezza della fragilità. Ci tengo sempre a dire, siccome fragilità è una parola che mi piace molto, ci tengo sempre a dire che fragilità e debolezza non sono assolutamente la stessa cosa. E ce lo dice l'etimologia, l'origine delle parole. Fragile è ciò che si può rompere. Questo bicchiere è fragile, perché è di vetro, ma non è rotto. Si può rompere, dipende da cosa ne faccio, se lo butto per terra si rompe, ma se ne ne prendo cura, proprio perché so che è fragile, allora potrò conservarlo. Il vetro è fragile per sua natura, l'uomo è fragile per sua natura, ma non vuol dire che si romperà, che soffrirà, che starà male, che si porterà dietro questa fragilità come una caratteristica negativa. Debole è colui che è in debito, colui a cui manca del suo, è molto più forte nel greco e nell'ebraico, colui che ha bisogno di qualcosa che gli spetta ma non gli viene dato. E quindi l'uomo non deve essere debole. La fragilità non deve essere una debolezza, ma un punto di forza. Essere consapevoli della nostra fragilità, che vuol dire che se siamo nudi qualcuno ci deve aiutare a vestirci, qualcuno ci deve riparare, qualcuno deve insieme a noi costruire una casa per non morire di freddo. Allora, questo uomo fragile, questo uomo nudo, che nasce nudo come specie, non solo come individuo, proprio a partire da questa fragilità, dalla constatazione di questa fragilità, come caratteristica né positiva né negativa, esistenziale, ha elaborato probabilmente il suo, il suo essere uomo, la sua specificità. Quindi, cosa quali possiamo dire essere le caratteristiche specifiche dell'umano a partire dalla fragilità? Prima di tutto, probabilmente l'uomo è l'animale che si chiede cos'è l'uomo. Cioè, la domanda chi sono è una domanda umana. Noi non lo sappiamo se anche i gatti, i cani, gli elefanti se la pongono, però noi ce la poniamo. Noi continuiamo a domandarci chi siamo. L'uomo è l'animale che si pone domande sulla propria identità. Il problema è che a volte quello che scopre non è esattamente quello che vorrebbe scoprire. Il problema è che domandarci chi siamo, in profondità, vuole dire scoprire che forse non siamo così belli, buoni, intelligenti, simpatici, civili, come vorremmo essere. La domanda sul chi sono, se posta in maniera radicale, se posta in maniera corretta e onesta con se stessi, ci porta a scoprire dei lati d'ombra, ci porta a scoprire i nostri lati d'ombra, la nostra ombra, l'ombra che portiamo dentro di noi. Edipo, nel momento in cui finalmente capisce chi è, scopre di essere l'uomo che ha ucciso suo padre e che ha sposato sua madre, avendo dei figli che sono al contempo suoi figli e suoi fratelli, e si acceca, perché non può sopportare la visione di ciò che è. E Freud, che ha riletto la mitologia greca, in particolare Edipo Re di Sofocre, Freud ci dice, guardate che guardando dentro di noi, in particolare a partire dall'interpretazione dei sogni, guardando dentro di noi, noi scopriamo la nostra ombra, cioè scopriamo che la vera più profonda realtà del nostro essere è molto lontana da quello che vorremmo e soprattutto ci sfugge sempre. Freud scrive un saggio, un breve saggio, che in italiano viene tradotto come una parola che non ha molto senso, però il tedesco è veramente intraducibile, in italiano viene tradotto come il perturbante, cioè ciò che ci dà fastidio, perturbante è una parola un po' più inadatta. Cos'è che ci dà fastidio? Cos'è che ci turba? In tedesco la parola è unheimlich, aimat è la patria, è ciò che è più vicino a me, unheimlich è ciò che mi dà più fastidio. E Freud arriva a dire, ciò che ti disturba, ciò che ti dà fastidio, ciò che non vorresti vedere, in realtà è l'immagine di ciò che tu sei. E' la vera immagine di ciò che tu sei. Freud, nell'interpretazione dei sogni, facciamo una serata magari, una sera sull'interpretazione dei sogni, che è un libro straordinario, dice che i sogni che veramente dicono, lo dimostra, non ho tempo stasera, ma veramente sarebbe bello fare un discorso più lungo, quindi adesso ve lo dico soltanto, non posso arrivare alla dimostrazione che fa lui, che i sogni che veramente dicono la verità su di noi sono quelli che dimentichiamo. I sogni che ricordiamo e i sogni più coerenti, in cui uno fa un sogno, in cui prendo un tram, scendo alla fermata, va al bar e a un caffè, sono sogni che sono stati censurati, sono stati, non dicono la verità, quello che veramente io ho sognato stanotte, se tocca la parte più profonda di me, l'ho dimenticato. E capite che per un essere umano formato alla scuola di Cartesio, cogito ergo sum, il cogito, Cartesio è un grandissimo filosofo, non c'è minimamente in discussione la grandezza degli autori che magari sottoponiamo ad una critica, però Cartesio dice io posso dubitare di tutto, posso anche dubitare di essere sveglio o di stare sognando, posso anche pensare che il mio corpo è fatto di cristallo e che qualcuno potrebbe mandarlo in frantumi, ma non posso dubitare che sto dubitando. Siccome dubito, allora penso, e siccome penso, allora sono. Io sono la mia ragione. Il Cartesio dà una definizione, una frase latina molto forte. Cos'è il cogito? Cos'è la ragione? Fundamentum inconcussum veritatis, il fondamento indiscutibile della verità. Freud dice ma neanche per sogno, mi è venuta così, davvero non l'ho pensato, ma neanche per sogno, ma neanche nei sogni, nel senso che la ragione è una piccola parte, una crosta, dentro noi non siamo la ragione, siamo qualcosa che ci sfugge continuamente. Quindi l'uomo è l'animale che si deve porre la domanda sull'identità. Agostino dice io non posso non chiedermi chi sono, ma è un mistero. L'aveva detto Agostino secoli prima di Freud. È un mistero perché la nostra verità ci sfugge sempre. Cosa vuol dire questo sul piano concreto? Perché uno potrebbe dire, vabbè, riflessioni filosofiche a parte, io posso anche vivere sapendo che mi sfugge la mia profonda verità. Faccio un esempio, lavoro da tanti anni sulla Shoah e quando vado a fare i laboratori nelle scuole e presento le categorie, le quattro categorie che in qualche modo sono stati protagonisti della Shoah, i carnefici, le vittime, gli spettatori e i ribelli. Coloro che hanno ucciso, coloro che sono stati uccisi, coloro che sono stati zitti e coloro che hanno provato a ribellarsi. I ragazzi mi dicono, ma lei a quale di queste quattro categorie, secondo lei non avrebbe voluto, avrebbe sicuramente, di quale di queste quattro categorie avrebbe fatto parte? È chiaro, sarebbe bello rispondere, il ribelle, io sicuramente sarei andato a difendere gli ebrei, ma non è vero, non lo so, non lo so proprio. Forse sarei stato un ribelle, forse sarei stata una vittima, forse avrei detto per carità stiamo zitti, non diciamo niente, e forse sarei stato un tenente delle SS in carriera. Non lo so, non lo posso sapere, sarebbe troppo facile, perché commetteremmo con i nazisti lo stesso meccanismo che loro hanno messo in atto, diciamo che i nazisti non sono umani, facile così, no? Cos'è stato lo sterminio? Opera di persone disumane. Anna Arendt, scrive il testo, la banalità del male. Cosa vuol dire la banalità del male? Vuol dire che chiunque potenzialmente avrebbe potuto fare il male, questo rende ancora più eroica la resistenza di coloro che invece hanno provato, tra le di tutto, i giusti di Israele. Se l'umano ha dentro di sé lo sterminio, se ognuno di noi ha dentro di sé lo sterminio, capite che questo è un problema grosso rispetto al fatto che non ci conosciamo mai fino in fondo. Dentro di me c'è la potenzialità dell'omicidio, ma c'è per il semplice fatto che se io avessi qua un coltello potrei uccidere uno di voi, c'è la possibilità concreta, ma c'è anche la possibilità che io goda nell'uccidere uno di voi. Non posso escludere la possibilità che io goda, perché altrimenti penserei all'omicida, allo stupratore, all'assassino, al violentatore, come non umani. Troppo comodo, ma soprattutto non vero. Falso. Nessuno si è mai posto al di là dell'umano. Non è possibile porsi al di là dell'umano. Un po' un uomo o una donna porsi al di là dell'umano. E c'è in me la potenzialità dell'annientamento, dell'autoannientamento e della distruzione. E naturalmente c'è invece la possibilità del bene, dell'aiuto, del sacrificio, addirittura di dare la mia vita per i miei amici, come diceva Gesù. No, cosa più bella, dare la vita per i propri amici. C'è anche quest'altra possibilità. Allora, probabilmente l'uomo ha questa caratteristica, però questa è una caratteristica, se volete, mentale. Fisicamente, torniamo a Platone, fisicamente l'uomo è questo animale nudo, privo di armi, efficaci, quando nasce e poi si fa i carri armati, ma se li fa dopo. E provate a pensare, però, a una caratteristica tipica della specie umana. Il fatto di camminare in posizione eretta. Quando un bambino assume la posizione eretta, tutti noi siamo contenti e ci sembra che appartenga un po' di più e la famiglia umana. Nessuno pensa che un bambino di due mesi non sia un essere umano, però in quel momento lì papà, mamma, i nonni, cammina, cammina, ha alzato il punto di vista. E noi siamo abituati, fin dalle scuole, a dire, beh, acquisizione della posizione eretta cosa vuol dire? Vuol dire vedere più lontano, vuol dire liberare la mano, la mano non è più utilizzata per deambulare, si specializza e ci permette di usare la tecnologia, come direbbe Platone, usare degli strumenti. Vuol dire far sviluppare il linguaggio. Perché noi parliamo in modo articolato? Perché abbiamo imparato, questa è una cosa che non so quanto ci si pensa, no? Abbiamo imparato a cuocere i cibi e quindi tutta la nostra cavità orale, bocca, si è liberata dalla necessità di avere queste macellone enormi per frantumare, triturare. Quindi con i millenni la nostra bocca è diventata più adatta a far uscire il canto, la parola, si è specializzata. Se noi non avessimo la possibilità di predigerire i cibi cucinandoli, cuocendoli, avremmo molta più fatica ad articolare. Quindi posizione eretta vuol dire, ah, siamo l'animale superiore, vediamo lontano, usiamo la mano per degli utensili, abbiamo il linguaggio. Questo in parte è vero, non che siamo animali superiori, questo in parte è vero, ma posizione eretta prima di tutto vuol dire che esponiamo le nostre parti più deboli e più fragili, la pancia, gli organi genitali, a qualunque possibile aggressione. Proviamo a sventrare una tartaruga? È difficile. Proviamo a sventrare una tigre? Ci mangia prima. Proviamo a sventrare un gatto? Beh, ci riusciamo, ma qualche graffiato, qualche graffio ce lo prendiamo. Proviamo a sventrare, andiamo fuori ai mercati, il primo che incontriamo ci vuole un attimo, un attimo. La persona che abbiamo davanti ci vuole un attimo a ucciderla. È molto più difficile uccidere una zanzara che uccidere un essere umano. È molto più difficile che la zanzara, la mosca, no? Tante volte cerchiamo di catturare le mosche le mosche, vedono un attimo prima e vanno via, e non riusciamo mai a prenderle. Uccidere l'uomo è la cosa più facile del mondo, perché l'uomo è un animale aperto, perché l'uomo porta in giro le sue fragilità e le esibisce. L'uomo è l'unico, quando dico uomo intendo uomo e donna, è l'unico animale che sa di essere nudo. È infatti l'unico animale che porta i vestiti. Vado dai ragazzini a fare incontri, dico ragazzi, qual è la differenza tra l'uomo e gli altri animali? La ragione, gli strumenti, l'intelletto, le mutande. E ridono come dei matti, ragazzi. Voi avete mai visto un cane con le mutande? Sì, se il padrone gliene mette per fare lo spiritoso. Oppure i cani, no, cani incontinenti, che giustamente gli si mette il pannolone, ma senza un intervento umano, non c'è nessun animale che copre le proprie nudità. Ma perché noi copriamo le nostre nudità? Perché siamo fragili, perché sono i punti più fragili. È chiaro che è simbolico, io posso sventrare una persona anche se ha un golfino, una maglietta, però simbolicamente coprire le parti più fragili, più delicate e, per certi vestiti, preziosi, del nostro corpo, mettono uno schermo, anche se è fatto di un po' di stoffa, tra noi e il resto del mondo. Siamo gli unici animali consapevoli di essere nudi e che hanno bisogno, non potendo, perché non fa parte dell'umano l'andare in giro completamente coperti con le bravi, perché l'umano deve andare in giro, mostrando le proprie parti fragili, usiamo i vestiti, o poi le corazze, gli scudi, li vestiti come prima cosa per difenderci. Questo vuol dire, parlo di cose però, primo vuol dire che l'uomo è un animale esposto al rischio, costitutivamente esposto al rischio, non c'è nessuna possibilità di evitare il rischio. Poi vorrei sottolineare la differenza tra rischio e pericolo. Il pericolo è quando una persona mette se stessa o un'altra persona in una situazione in cui ne va della propria vita o della vita dell'altro e non ha saputo prevedere, non ha saputo calcolare, ha fatto un'operazione poco intelligente, perché il pericolo di vita lo vedi. Il rischio è invece il fatto che ho fatto tutti i miei calcoli, ma non posso sottrarmi a vivere. Allora, se io vado a attraversare la tangenziale alle sei di sera e continuo a correre avanti e indietro, mi metto in pericolo di vita, sono un pazzo, voglio suicidarmi. Ma se io attraverso una strada, guardando quattro volte a destra e a sinistra, sono sulle strisce, mi pare che il tipo sta rallentando, mi ha fatto anche i fari, poi lui accelera e mi mette sotto, quello è un rischio. L'ho calcolato, sono ragionevolmente certo di calarmela, ma può sempre succedere che questo mi metta sotto. Capite la differenza? È importante a livello educativo. Un conto è proteggere i bambini dai pericoli, un conto è non esporre il rischio. Non è possibile non esporre i ragazzi al rischio, dove il rischio vuol dire avere calcolato il più possibile il fatto che non siano in pericolo o non essere mai certi. L'uomo è sempre a rischio, per come è fatto, perché andare in giro così vuol dire che l'altro può essere chi mi aggredisce o può essere chi mi abbraccia. E io non lo so mai, ma nemmeno sei un mio amico lo so, nemmeno sei mio figlio, nemmeno sei mio figlio, nemmeno sei mio padre, mio fratello. Caino va bene. Non è mica aspettarselo a bene che questo suo fratello lo uccidesse. Era suo fratello, si volevano bene. Poteva abbracciarlo, no? Gli ha dato una pietra in testa. E questa esibizione al rischio, però, è ciò che ci fa stare in ansia, ma che ci fa godere ancora di più l'abbraccio. Perché se l'altro mi abbraccia, e mi abbraccia veramente, da un lato vuol dire che ha superato il suo potenziale omicida, ha rinunciato ad aggredirmi. E dall'altro, pensate all'abbraccio, pensatelo fisicamente, due persone che si abbracciano, la schiena dell'uno diventa il carapace, la corazza che protegge la pancia dell'altro. Abbiamo costruito la tartaruga, ma la tartaruga si costruisce solo in due, o in tre, o in cinque, in cinquanta, mettendoci tutti in cerchio, no? Mantenendo dentro il cerchio le nostre parti fragili. Sarà un abbraccio, sarà un'aggressione? Non lo sappiamo. Ma questo è costitutivo dell'umano. E fuggire da questa cosa, pensando a priori che sarà un'aggressione, significa andare oltre ciò che l'umano è per natura, per definizione, per come nasce. Per come nasce. Qui, quando sento parlare di nativi digitali, questa espressione che si è molto diffusa, i bambini di oggi sono dei nativi digitali. Io non ho mai visto un bambino nascere con una presa per la chiavetta USB sulla pancia, per ora, per ora. I bambini nascono urlando, anzi, neanche urlando, bisogna dargli scuraccione per liberare i polmoni. E hanno un bisogno di un corpo paterno o materno che li accolga, di un abbraccio e un po' dopo di una mammella gonfia di latte che li nutre e non soltanto, li faccia anche sentire accolti. Questo è il nativo. Se poi tu a un bambino di sei mesi dai in mano uno smartphone, non è nativo digitale. Hai fatto una scelta, hai creato dei nativi digitali. Ai bambini oggi a tre anni hanno tutti in mano i computer, ma mica li prendono loro, gli li diamo e se gli li diamo la Microsoft sarà contentissima, la Apple sarà contentissima, ma non raccontiamoci che c'è una modificazione antropologica, perché non c'è, perché se non glielo dai non lo usa. Ma possiamo discutere se ha senso o no, non daglielo. Non nascono digitali. Questo, guardate, è un grande inganno, la parola nativi digitali, che i bambini nascono ancora oggi con delle caratteristiche che non sentono nulla con la realtà virtuale. L'uomo poi è l'unico animale che elimina i propri rifiuti, i propri rifiuti corporei. Anche il gatto lo fa, ma il gatto lo fa, le gatte soprattutto, quando partoriscono, per allontanare gli aggressori, non per un senso di pudore, non perché gli dia fastidio, i gatti sono animali molto puliti, ma in realtà lo fanno per allontanare gli aggressori, perché l'aggressore sentendo l'odore degli escrementi potrebbe uccidere i cuccioli, le gatte appena partorito sono estremamente attente, ma i gatti, i cani, gli animali non provano disgusto per i propri rifiuti. Noi abbiamo elaborato la categoria dello sporco e del pulito. C'è un bellissimo libro di Paolo Sacchi, uno dei più grandi esperti di Bibbia che ci siano in Italia, scusate, che mette in correlazione lo sporco e il pulito col puro e l'impuro, questo libro che ha proprio queste quattro parole come titolo, e dice una cosa interessante, quando noi, nell'Antico Testamento, nei strati più antichi, c'è una parola impuro, impuro non vuol dire negativo, impuro non vuol dire qualcosa di brutto, anzi, l'impuro è ciò che è più vicino a Dio, infatti il sacerdote deve purificarsi per poter accedere a Dio, lo sporco nell'Antica Israele è più vicino a Dio del pulito, è sconcertante, è strano, ma se ci pensate è così, Dio ha dovuto sporcarsi per creare il mondo, Dio ha creato il fango, anzi, addirittura col fango, la terra, Adamà, ha creato l'uomo, l'uomo è sporco, è perché è fatto di fango, poi noi naturalmente quando ci sporchiamo di fango ci laviamo le mani, ci laviamo, ci facciamo la doccia, benissimo, ma non possiamo pensare con questo gesto igienico fondamentale, i serbi per smettere malattie, per non avere poi dei problemi, di eliminare del tutto la dimensione dello sporco, noi siamo sporchi per natura e abbiamo imparato a tenere lo sporco, in particolare gli escrementi, in particolare le cose che marciscono fino al cadavere, lontano da noi, la civiltà si basa sull'allontanamento dallo sporco, rituale, sempre attraverso dei riti, che parte però dall'idea che la totale pulizia, la totale igiene, la totale purezza è impossibile. C'è un antropologo americano che ha scritto il libro I frutti puri impazziscono, che partendo dalla biologia dimostra che più un frutto, la mela, è puro geneticamente, meno ha possibilità di sopravvivere, perché a me non ti colpi, e quindi le mele più pure, cioè iperselezionate, facendo innesti soltanto tra alberi assolutamente puri, le mele più pure sono le mele che marciscono prima, i frutti puri impazziscono, perché la purezza è totalmente al di là dell'umano, l'uomo è impuro e anche Dio è impuro, poi l'uomo può purificarsi, può provare a purificarsi, questo ha un paio di conseguenze, l'uomo sa che l'unico modo di conoscere il mondo è sporcarsi con il mondo, non c'è altro modo, possiamo conoscere il mondo stando fuori dal mondo, perché non c'è questo punto esterno al mondo, forse la realtà virtuale, la realtà virtuale è pulita, cioè se un bambino sta sei ore davanti a un computer, siete certi che non si sporca, se esce e va nel fango, bisogna poi mettere in lavatrice i vestiti e fargli la doccia e magari anche qualche vestito non verrà pulito. Ma quando fa esperienza dell'umano? In quale dei due casi fa esperienza davvero dell'umano? Dell'umano in tutte le sue caratteristiche, con tutti i suoi cinque sensi. Pensate questa parola digitare, noi ormai la usiamo tutti i giorni, no? Digitare. Digitare deriva da dito, no? Anzi meglio da polpastrello. Il mondo, c'era una pubblicità di Inter, il mondo a portata di polpastrello. Io trovo agghiacciante che di tutto il mio corpo, le uniche due parti che fanno esperienza, tre, del mondo sono i polpastrelli degli occhi e una parte della mente, perché Internet sollecita i computer, sollecita solo una parte, solo un emisfero. E tutto il resto non conta. È ancora umano questa cosa? È ancora umano pensare di fare esperienza del mondo eliminando il 99% del nostro corpo e rimanendo puliti, perfettamente puliti, senza neanche sudare, digitando, fai neanche lo sforzo, non ti sudano neanche le mani, certi versi, no? Allora, l'uomo è cultura solo perché sa di essere anche natura. Due grandi autori hanno detto questa cosa, cioè hanno rifiutato di separare natura e cultura, Darwin e Freud, in maniera diversa. Cosa hanno detto sostanzialmente? Che la caratteristica del fringuello è di cinguettare, la caratteristica delle formiche è di prendere il cibo e scavare dei tunnel, la caratteristica dell'essere umano è di scrivere poesie, comporre sinfonie, costruire palazzi. Noi siamo culturali per natura, non c'è una distinzione tra natura e cultura. Questo animale ha avuto da Prometeo la cultura, perché era finito tutto il resto, ed è diventata la nostra natura, è diventata la nostra specificità. Come l'aquila sa volare meglio, più in alto di qualunque altro animale, così l'uomo sa scrivere poesia. Non è meglio, non è peggio, è la nostra caratteristica. E allora cosa portiamo noi al mondo? Portiamo la cultura come nostro dono. E qui vi leggo una pagina di Marcel Proust, La ricerca del tempo perduto. Quest'opera sterminata, questa autobiografia in sette volumi, lunghissima, proprio torrenziale, una cosa concertante. E Proust, primo volume, La strada di Swan, o come oggi viene tradotto dalla parte di Swan, in francese c'è il doppio senso, il primo volume è raccontata l'infanzia del protagonista. E il protagonista racconta che viveva in una casa con i suoi nonni, con i nonni e i genitori, una casa dove c'era un grande giardino, pieno di rose. E per, quando suonavano al cancello, per andare ad aprire bisognava attraversare il rosetto, perché c'era un sentierino. Allora, quando suonava il campanello, ad aprire andava sempre la nonna. Dice Proust. E si mandava in esplorazione la nonna, ben lieta di avere un pretesto per fare un altro giro per il giardino, e che ne approfittava per strappare al passaggio qualche bocciolo e dare così alle rose un po' di naturalezza. Come una madre che passi le mani fra i capelli del figlio, che il parrucchiere abbia troppo schiacciati per farli più gonfi. Ora, a parte la straordinaria poesia della metafora, no? La mamma che il ragazzino torna dal parrucchiere e lo spettina un po' perché è troppo precisino, troppo ordinatino. Un'immagine straordinariamente poetica. Ma pensate a quella parola naturalezza. Cioè, la donna che strappa dei boccioli per dare naturalezza, è strano perché naturalezza pensa che non bisogna toccarlo, no? Deve crescere. Però se noi non facciamo niente diventa come la vigna di Renzo, diventa come l'orto di Jean Valjean e Miserabili. L'uomo interviene nella natura dandone naturalezza. Perché la nonna non è che strappa dei boccioli a caso, sa esattamente. Se tolgo questo, sono tre, tolgo questo, gli altri due svilupperanno delle rose più belle, no? Pensate alla dolcezza di certi paesaggi del centro Italia, Toscana, Umbria, no? Questi campi tutti delimitati, con colori diversi. L'uomo è intervenuto. Sarebbe stato più bello se fosse stato selvaggio? Non è questa la domanda. L'uomo è intervenuto così e la bellezza di quel paesaggio è essere il paesaggio coltivato. Certo meglio di un grattaccevo di 30 piani. Perché l'uomo può intervenire con la natura rispettando la natura e quindi restituendo alla natura il dolo della cultura oppure deturpando tutto, no? Quindi la spiaggia tu la puoi tenere bene in ordine, no? Raccogliere i rifiuti, fare tutta un'operazione di ripopolamento della fauna e dei pesci, oppure puoi fare un bangalo, una serie di bangalo e devastare tutto. Ma il primo intervento ti rimette in sintonia con la natura, ma per questo ci vuole la cultura, ci vuole l'intelligenza, il dono di epimeteo. Allora la cultura è eliminare i nostri rifiuti, cercargli un po' d'urne, e mettere un po' di distanza tra noi e la natura, non come se fosse aliena, ma come se fosse qualche cosa rispetto alla quale continuamente riflettere, continuamente pensare come posso rendere migliore il mondo, qual è il mio contributo culturale al mondo. L'uomo è l'unico animale che dà la morte per scelta e non per necessità. Tutti gli altri animali uccidono, perché gli animali erbivori uccidono la vita vegetale, la vita si nutre di vita, ma la differenza tra me e una tigre è che la tigre non può scegliere di essere vegetariana, io sì. Io sono vegetariano, lo dico per informazione, e trovo sempre abbastanza divertente quando mi dicono, ma in realtà la dentatura dell'uomo, lo stomaco dell'uomo è da carnivoro? Ma io non sono la mia dentatura, io sono la mia libera scelta, io posso nutrirmi di vegetali, equilibrando, assumendo le proteine insomma, e campare lo stesso. E quindi scelgo, io rispetto a chi mangia carne, per carità non sono certo un crociato del veganismo, del vegetarianismo, io ho fatto la mia scelta, ma io ho fatto la mia scelta, e altri hanno fatto la loro. Noi possiamo scegliere, apportiamo la morte, anche i vegetali, anche le piante, ma la portiamo per scelta, scegliamo di, anche per necessità, ma anche per scelta. Allora questo porta ad alcune conseguenze. Perché la morte nel Medioevo viene sempre rappresentata con in mano la falce? È una caratteristica di tutta l'iconografia della morte, anzi, quando nasce la raffigurazione della morte ha sempre in mano la falce. Come mai proprio la falce? Perché l'uomo nasce agricoltore, questo storicamente, poi diventa cacciatore. E il primo gesto è stato staccare un grappolo d'uva o tagliare una, fare la fienagione, tagliare una spiga di grano. E l'uomo si rendeva perfettamente conto che in questo modo dava la morte alla pianta, al punto che sacrificava l'ultimo covone, o il primo, l'ultimo, la seconda delle tradizioni, veniva bruciato per gli dèi. Non veniva usato per fare il pane. L'ultimo, il primo grappolo veniva dato agli dèi, poi il popolo ebraico lo lascia per l'olfo nella vedova, no? Sapeva trattenersi, perché sapeva di poter dare la morte. L'uomo non è l'unico animale che uccide, ma è l'unico animale che, per quello che ne sappiamo, è consapevole e può scegliere se uccidere o no. Può uccidere per necessità, uccide per necessità, che dobbiamo nutrirci, o di animali, o di vegetali, ma uccide anche per scelta. Allora, possiamo decidere di uccidere e di non farlo, possiamo passare dalla carezza, dal pugno alla carezza, ma quando io decido di non uccidere, quando vedo la vulnerabilità dell'altro, cioè quando vedo che anche l'altro, nudo, è vulnerabile, e allora scelgo o di ferirlo o di abbracciarlo. Cos'è la carezza? La carezza è un pugno trattenuto. Potrei farti male, ma ti faccio bene. Potrei darti un pugno, ma ti do una carezza. Vecchissima canzone di Celentano, la carezza in un pugno. Una bella canzone d'amore, d'amore di tradimento, però dal pugno chiuso una carezza nascerà. Questo è l'umano, l'umano ha la possibilità di dare un pugno, ma da una carezza, ma lo sceglie. E lo sceglie non perché è superiore agli animali, perché la libera scelta è la nostra caratteristica, di noi animali, noi animali umani possiamo scegliere. Scegliamo di accarezzare, di abbracciare o di uccidere. L'uomo è l'unico animale che può scegliere consapevolmente di darsi la morte. I lemming, sapete che si buttano in acqua e noi diciamo che si suicidano, ma in realtà questo è un istinto misterioso tra l'altro, nessuno l'ha mai spiegato, questa migrazione di questi animali che si buttano da una rupe e vanno a sfracellarsi o ad annegare. L'uomo può scegliere anche il suicidio. Allora capite che, anche questo è molto importante, l'umano non è tanto decidere se suicidarsi o no, ma decidere se veramente la vita è un bene disponibile. Questo riguarda anche il tema dell'eutanasia, riguarda il tema del fine vita. Ma noi parliamo della mia vita, la mia vita è un bene disponibile. C'è un libro di Silvio Adarzo, che è un narratore, un romanziere, in realtà ha scritto sostanzialmente solo questo racconto, ma è talmente straordinario, si chiama Casa ad Altri. È la storia di un sacerdote che va a fare il parroco in un paesino di campagna, di montagna, pochi parrocchiani. C'è una signora anziana, vedova, una di quelle a cui la vita gli ha fatta di tutti i colori, ha perso i figli, è malatissima, e lui vede sempre questa donna e dice, certo che poverina, sta proprio aspettando di morire. Un giorno la donna gli scrive una lettera, e nella lettera gli scrive, io vorrei sapere se qualche volta, per un'eccezione, non si può avere il permesso di finire un po' prima. Io il mio libro sul suicidio l'ho intitolato Finire un po' prima, è un'immagine molto delicata, no? Il prete non sa cosa rispondere, perché è chiaro che non può dire, non può legittimare il suicidio, no? Però dice anche, ma posso non essere ipocrita? Posso non dire a questa donna che... E allora poi non vi svelo il finale, perché se volete andarlo a leggere, poi certo, si intreccia con un'altra storia d'amore. Ecco, allora, il suicidio. Il suicidio fa parte della nostra potenzialità, è un gesto umano, è certo che è un gesto umano, altrimenti non avremmo neanche la possibilità fisica. La cosa sceglie veramente chi si è ne va dalla vita. Max Stirner, filosofo dell'Ottocento, dice, il suicidio è il vero gesto filosofico. Il vero filosofo, quanti filosofi sono suicidati? Carlo Michel Stetter, filosofo triestino, ragazzo di 23 anni, finisce la sua tesi di laurea, che è diventato un capolavoro della filosofia, si chiama la persuasione della retorica, finisce la tesi di laurea, la mette sulla scrivania e si uccide. È un gesto filosofico, perché è proprio questo Stirner che afferma, qual è la sua filosofia? Stirner è l'autore del libro intitolato L'unico e le sue proprietà, in cui dice, io sono unico, ci sono solo io al mondo e tu puoi dire ci sei solo tu e lei può dire c'è solo lei, ognuno di noi è unico, non ha rapporti con il resto del mondo, grazie, lo so anch'io allora che il suicidio è un gesto filosofico, ma è un delirio, perché il problema del suicida è che ogni suicidio è anche un omicidio, perché chi si suicida rompe tutte le relazioni che ha con i suoi amici, che ha con gli altri e le rompe unilateralmente. Io non decido solo della mia vita, ma decido della vita di tutti i miei amici che resteranno senza di me. Capite che qualunque altro gesto di rottura, una lite, una separazione, un'amicizia che si rompe, lascia aperta una porta, magari quella porta poi non servirà, non torneremo più a parlarci, ma suicidarmi vuol dire uccidere insieme a me tutte le relazioni che ho col mondo. Allora, contro Stirner, che dice che l'essenza dell'uomo è essere completamente solo, io penso che l'essenza dell'uomo sia avere delle relazioni. L'uomo è l'animale che ha delle relazioni, che vive soltanto nelle relazioni con l'altro e di conseguenza, scegliendo di suicidarsi, scelta che io non giudico, io ho perso la mia più cara amica a 19 anni, in questo modo non sono mai permesso di giudicarla, però il dolore che ha causato a me non dovevo farlo, questo non glielo riesco a perdonare, per la sofferenza che ha causato a me, a me, ai suoi amici, ai suoi genitori, a tutti quelli che le volevano bene, non giudico il suo gesto per sé, ma per quello che ha fatto a me, qualcosa mi dovrà dire un giorno, se ci rivedremo, perché mi hai fatto così male, con la scusa di fare male a te stessa. Capita allora questo uomo quanto è complicato, nel momento in cui a partire dalla sua fragilità ha bisogno dell'altro, l'altro, Sartre diceva l'altro è il mio inferno, ma lo diceva nel senso che quando cominciamo a esporci all'altro, cominciamo a creare i problemi, cominciano ad esserci i problemi, perché comincia a nascere il problema perché non posso mai definirmi in solitudine, e qualunque cosa io faccio della mia vita, la faccio anche della vita degli altri, non sono mai solo, anche Robinson non era solo, prima di tutto perché ha incontrato venerdì, ma anche se non avessi incontrato venerdì, Robinson aveva a casa una famiglia che lo aspettava, dei compagni che sono naufragati e sono morti, non poteva essere solo, perché non avremmo potuto scrivere, anzi Defoe non avrebbe potuto scrivere il romanzo, Robinson è un insieme di relazioni, e poi ne incontra una nuova, questo selvaggio che lo stupisce, e comincia il romanzo, ti metti, non sapremmo nemmeno che è esistito uno che si chiama Robinson, ma se uno che si chiama Robinson è esistito, come minimo, sua mamma l'ha portata in pancia, quindi almeno una relazione nel mondo deve averla avuta, non esiste l'unico, l'unico è una finzione, di comodo, io nella mia vita faccio quello che voglio, non è mai vera questa cosa, io decido di troncare tutte le relazioni annientandoli, ma così uccido un po' di me negli altri. Infine, l'uomo è l'unico animale che elabora culturalmente la propria morte, non parliamo più di una morte data, la morte, la morte che fa parte della vita. L'uomo muore, non sappiamo se è l'unico animale che è consapevole di morire, molto probabilmente no, sembra che addirittura alcune piante sentano quando stanno per essere esradicate, hanno fatto degli esperimenti, misurando delle reazioni chimiche, ma l'uomo è l'unico animale che seppellisce i propri morti, quando lo fanno altri animali è sempre per una questione di inibire i predatori, o comunque di allontanare la possibilità di cadaveri, credere infezioni, problemi, sanitarie chiameremmo noi. Come direbbe il grande antropologo De Martino, l'uomo è l'unico animale che crea la seconda morte, non la morte seconda di Francesco d'Assisi, la seconda morte cioè la morte culturale. Noi i nostri morti li dobbiamo seppellire, ricordare, celebrare, prendiamo le fotografie nei portafogli, facciamo le tombe, scriviamo delle canzoni, i giocatori di calcio mettono il lutto al braccio, abbiamo bisogno di questa presa in carico del lutto. Anzi, come dice Lombardi Satriani, un antropologo, la cultura nasce proprio dal bisogno di elaborare la morte. Il bisogno di far diventare la morte non soltanto un evento, ma un oggetto culturale ha fatto nascere probabilmente le religioni, delle filosofie e le culture in generale. Il problema è che i morti non sempre se ne stanno al loro posto. Adesso arriva Halloween, saremo pieni di fantasmi, di spettri, di teschi, come mai ha questa presa? Non è soltanto una questione commerciale, sicuramente, ma questo fascino, i morti che ritornano, gli zombie, è sempre stata nella storia dell'umanità questa cosa. Pensate che Heinrich Himmler, nazista, quando un soldato si suicidava, un SS, e se un SS arriva a suicidarsi vuol dire che ha dei motivi di profondo rancore, di profondo disagio, faceva tagliare le mani e i piedi e lo faceva seppellire mutilato per evitare che potesse tornare e fare del male. A Himmler siamo nel Novecento e non siamo in una cultura superstiziosa, oddio, certamente c'era molta cultura superstituziosa nel nazismo. E questo deriva dall'antica Grecia. L'assassino, in questa volta c'è in Sofocle, l'assassino quando uccideva, magari legittimamente, faceva un omicidio che era legittimato, non un atto di guerra, doveva tagliare le mani e i piedi alla vittima e legarli sotto le ascelle, in modo che questo non potesse tornare. Sono cose terribili, sono cose macabre che però fanno capire che col mondo dei morti noi abbiamo sempre avuto un rapporto molto particolare, di memoria e di dimenticanza. Noi abbiamo bisogno di dimenticare i nostri morti per poterli ricordare, se noi ricordassimo il morto sempre con la stessa intensità non riusciremmo più a sopravvivere. Allora, la specificità umana non è morire, tutto muore, ma è riflettere sulla morte, elaborare culturalmente la propria morte, la morte propria e quella degli altri, essere consapevoli consapevoli della propria morte. Quando Ivan Illich, nel racconto di Tostoi, e guardate che Ivan Illich noi potremmo tradurlo come Mario Rossi, è il nome e cognome più diffuso nella Russia di Tostoi, quindi l'uomo comune, l'Every Man, Ivan Illich sta morendo, mi viene in mente quando studiava al liceo, eh certo, il silogismo, no? Socrate è un uomo, l'uomo è mortale, quindi Socrate è mortale. E chi se ne frega problemi di Socrate, non importa a me di Socrate, adesso sto morendo io, adesso sta morendo Ivan, non Socrate, adesso tocca a me e la mia morte, la grande angoscia, no? L'uomo ha portato a chiedersi quando, come, cosa c'è dopo, non c'è niente dopo. E l'ultima caratteristica, poi vado a finire, dell'umano è che l'uomo è il mammifero col più lungo stato di dipendenza extrauterina, cioè è il mammifero per il quale dopo lo svezzamento c'è un lungo periodo di tempo in cui dipende dagli adulti. Tutti gli altri mammiferi, una volta svezzati, cioè una volta che non hanno più bisogno del latte materno, sono autonomi. L'essere umano, no, un bambino di otto anni non è autonomo, non può vivere autonomamente nella nostra società, il che significa che l'uomo e la donna hanno inventato l'educazione. L'educazione è un altro tratto specifico della nostra specie, cioè avendo la cultura come orizzonte, che è un orizzonte simbolico, non immediato, dobbiamo trasmetterlo ai nostri figli, dobbiamo spiegare ai nostri figli, cosa che la natura di per sé non fa, come si usa la forchetta, come si saluta, come ci si siede, come si legge, come si scrive, eccetera, eccetera. Giannitar quando prende in carico il bambino selvaggio della Veyron, quando dice a Filippinelle è un uomo questo bambino, dallo a me che ti farò vedere, gli insegna a dormire su un letto e non sulle foglie, marce, a vestirsi, a tenersi pulito, ad andare in bagno e poi a scrivere, non riuscirà mai fino in fondo a leggere, a scrivere, a comportarsi, a usare le posate, eccetera, eccetera. Quindi lo educa. L'uomo e la donna sono animali educanti. Vedete quanto, quanto è questo uomo, quante cose è questo uomo. Cioè a partire dal fatto che siamo i più disgraziati, i più svantaggiati, quelli che hanno avuto meno doni, da quest'unico dono, che è la ragione ma che è anche l'emozione, che è questa cosa, non basta dire ragione, è questa cosa indefinita che ci fa essere umani, quante cose abbiamo saputo fare e quanto queste definizioni che abbiamo detto tengono dentro 7 miliardi di persone. Perché tutti nascono nudi, perché tutti hanno il problema di eliminare i propri rifiuti, i propri escrementi, hanno il problema più o meno di tenersi puliti, poi sporco e pulito in giro per il mondo vuole dire cose diverse, ma il problema del puro e dell'impuro ce l'hanno tutti. Tutti sanno di poter uccidere, tutti sanno di potersi suicidare, tutti sanno di dover morire e tutti in qualche modo educano i propri figli. E guardate che se non ci siamo estinti è perché un giorno un adulto ha preso un cucciolo e gli ha detto ti insegno a fare il fuoco, perché altrimenti il fuoco l'avrebbe inventato uno e basta, sarebbe scomparso con lui. A un certo punto ha detto qua bisogna, i piccoletti, gli spieghiamo cos'è il fuoco, gli spieghiamo che può essere pericoloso, ma gli spieghiamo anche che può cuocere la carne e può essere utile. Cos'è oggi l'umano? L'umano oggi è quella cosa qui e finché ci sarà un essere umano su questa terra sarà questa cosa qui, il problema è che se lo dimentica. Il problema è che l'umano è entrato in questo tempo circolare, virtuale, di una tecnologia che non controlla più, e guardate senza andare a fare esempi che vanno troppo lontano, la prima cosa che facciamo appena alzato è accendere il cellulare, quando mi si dice ma la tecnologia è uno strumento, e certo dice anche Platone, ma anche la scimmia usa il ramo per attirare a sé, il bastoncino per attirare a sé il ramo del banano e prendere la banana. Sì, ma quando ha preso la banana, butta via il rametto, quello che le interessa è la banana non è il rametto, chi va su Whatsapp va su Whatsapp per andare su Whatsapp. Noi accendiamo la televisione e facciamo, no, alle nove c'è la partita, accendo la televisione. E' come la scimmia, no? Prendo il rametto, voglio vedere la partita, finita la partita, faccio altro, no? Facciamo zapping, no? E facciamo per due ore il zapping, per vedere cosa c'è. Sei diventato schiavo dello strumento, la tecnologia non è più uno strumento, è un fine. Vado su Facebook per andare su Facebook, vado su Facebook per aumentare le mie amicizie su Facebook. Ma perché? Ti ragazzi di oggi, perché vuoi un nuovo amico su Facebook? Perché mi porta nuovi amici su Facebook. Questo è delirio, ma non dei ragazzi, di chi ha inventato Facebook. è delirio, è un totale delirio. Io voglio un amico perché è un amico, perché è un amico, perché voglio parlarci insieme, perché voglio giocarci, perché voglio confidarmi, perché voglio fare a cazzotti, ma non perché mi porti degli amici, perché mi porti degli amici di cui non so niente. Abbiamo forzato i limiti, abbiamo occupato il tempo della nascita, possiamo progettare un bambino che nasca con gli occhi azzurri, possiamo progettare un bambino che nasca col potenziale certo di essere un metro e novanta a diciotta anni, progettarlo, non sperarlo, non desiderarlo, non pregare gli dèi, non fare degli scongiuri, essere certo. Abbiamo allungato la tecnologia sul tempo della morte, stiamo tornando a dire che esistono vite non degne di essere vissute e quindi abbiamo perso, stiamo perdendo, penso che sia irreversibile, ma il rischio è di perdere proprio le dimensioni dell'umano più radicate nel corpo e nella mente. Agostino però diceva che l'uomo è un mistero e penso che il mistero sia veramente la chiave di volta, la parola che dobbiamo tornare a utilizzare e il concetto che dobbiamo tornare a frequentare per uscire da una situazione molto pericolosa. Marchesini, che è un antropologo, un etologo, Roberto Marchesini ha scritto un libro molto bello che si chiama Post Human, il post umano, dove porta all'estrema conseguenza alcuni dei discorsi che ho fatto stasera, molto radicali, molto inquietanti, è scritto anche molto molto bene. Ecco, siamo certi di non voler andare al post umano? Cioè siamo certi che l'umano abbia esaurito le sue possibilità? Che siamo stati umani fino in fondo? Che siamo stati umani fino all'ultimo? Che abbiamo colto tutta la ricchezza del nostro essere umano per andare verso il post umano? A questo io ho dei dubbi. Il senso del mistero e la conoscenza, connaissance, nascere insieme. È bellissima l'etimologia del verbo francese. Conascere e conoscere. Io conosco una cosa perché nasco di nuovo insieme a questa nuova conoscenza. Conosco una cosa perché la nuova conoscenza mi fa rinascere. Pensate quante persone, 80 anni, 90 anni, si mettono a studiare, magari una lingua, si mettono a leggere un libro mai letto prima e rinascono. Ma li vedi che rinascono? Magari imparano anche a cucinare, imparano a cucire, oppure mettono a studiare filosofia a 80 anni e vedi che sono rinati. E la cosa straordinaria è che stanno conoscendo delle cose che gli altri già conoscono. Quanti hanno già letto Platone? Ma io non l'ho ancora letto. È una novità totale per me. Come io sono una novità totale per il mondo. Perché nonostante tutto, in questa ora che ho parlato, sono nati migliaia di bambini e la cosa straordinaria è che ognuno di questi bambini non era mai esistito prima. pensate, io dico sempre questa cosa, anche alle mie studentesse io insegno alle ostetriche. Le ostetriche è un mestiere in quale sono a contatto diretto con la nascita, no? E dico sempre, pensate che il bambino che tu stamattina, loro vengono con me al secondo anno, dopo che hanno fatto la loro prima salaparto. Quindi è bellissimo perché con me io insegno scienze umane, con me sono tutti entusiasti. Ma ci pensi che il bambino che hai fatto nascere stamattina, che hai fatto nascere, che hai aiutato a nascere, non c'era mai stato. Cioè l'universo ha 15 miliardi di anni e quella persona è totalmente nuova. È una cosa sconcertante, è un pensiero che dà le vertigini, no? Che è incredibile. Ogni secondo nasce una vita totalmente nuova, cioè vuol dire che l'universo si guarda con occhi totalmente nuovi, quindi rinasce l'universo. Perché nessuno lo aveva mai visto da quel punto di vista. Il bambino nella sua vita porterà la totale novità. Questo è il mistero. Il mistero è molto semplice. Il fatto che non sappiamo, sappiamo di non sapere, nel senso platonico-socratico, ma anche nel senso che sappiamo stupirci. Ma in questo modo dobbiamo andare al di là dei limiti del nostro io. Se restiamo prigionieri nel nostro io è finita. Come Ivan Illich. Io sono nato. Chi se ne frega del bambino che nasce adesso? Non me ne importa niente. Conta la mia vita, le mie esperienze. Va bene. È finita. Chiudiamo il capitolo dell'umano, così è chiuso. Anche perché io potrei in questo momento essere un sognatore. Chi mi garantisce che voi siete veramente presenti? Io posso toccare Mirko, ma può essere un'illusione. Nei sogni a volte ci illudiamo di toccare qualcosa. Quei sono bei discorsi, belli per un romanzo di fantascienza, per un racconto di quel genio della letteratura che era Jorge Louis Borges. Però sono pericolosi se vanno al di là della finzione. E non per caso il titolo del grande libro di Borges è Finzioni. Borges dice guardate che è una finzione. E allora nel gioco della finzione mi sta bene tutto. Ma poi l'altro c'è. L'altro c'è fuori da me. L'uomo cos'è? È altro da sé. È altro da sé perché dentro ha il mistero e perché ha il grande mistero della relazione con gli altri. L'uomo è un essere relazionale. Perché fuori dalle relazioni non esiste anche perché è stata una relazione a farlo nascere. Magari è una relazione terribile, magari uno stupro, ma una relazione umana. Perché anche lo stupro è nelle potenzialità del maschile. Orrendo, disgustoso, ma è nelle potenzialità del maschio. Il maschio vero è colui che questa potenzialità la cancella da sé e dice io questa cosa non la faccio perché ho un altro modo di relazionarmi alla mia dimensione maschile. Allora tutto questo porta a dire che l'uomo è un essere straordinario perché sa porsi la domanda su di sé e ponendosi la domanda su di sé fa come Agostino. Agostino scende nel più profondo dell'anima e ci trova Dio. Guardate che questa cosa qua che viene detta molto spesso è la cosa che dice di più di Agostino, no? La frase sul tempo che non si sa cos'è e la frase sono entrato dentro di me ho trovato Dio. Io la trovo un pensiero incredibile. Tu hai trovato l'infinito dentro il più piccolo, la più piccola molecola di te. L'uomo ospita l'infinito. E qui è Leopardi, no? Qui richiamo Leopardi perché l'uomo ha questa capacità. Ha la capacità di pensare a sé, all'altro e di pensare l'infinito, di nascere insieme all'infinito. Allora penso che l'umano sia proprio questa capacità di uscire da sé stesso. Se l'uomo esce da sé stesso è veramente l'umano, l'uomo, la radice comune di sette miliardi di persone. Uscire da sé stesso per incontrare le dimensioni nascoste di sé, uscire da sé stesso per incontrare l'altro e uscire da sé stesso soprattutto per incontrare la dolcezza dell'infinito, di ciò che non conosceremo mai ma del quale possiamo godere. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragare me dolce in questo mare. Grazie a tutti.